ciao ragazzi bentornati in questo nuovo video io sono Lois e bentornati sul mio canale ovviamente abbiamo il signor venom che abbiamo scoperto un po di bug ma pochi 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 tipo questo della pizza cioè non vorrei dire però dove 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 tiene la mano dove ha la pizza in aria non è fattibile epic non è fattibile molti molti bug ci sono tipo anche come altri come questo dove il joystick ce l'ha al polso al polso qua il joystick poi quando ride non so così idem vabbè e facciamo una sono uscite nuovi balletti come questo ragazzi schifo un attimo nuovo abbonamento e nuova schermata di galactus sta arrivando non sparata galactus ricordiamo perché così almeno galactus non muore cioè se gli sparate muore e quindi è logico cioè ci sta anche sì fra 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 ogni cosa non c'è un bug la vieni anche te questa qua sospesa va bene galactus con la sua testa ormai è fuori dalla dall'acqua eh sì sì ma li manca ancora un metacorbo cioè li manca ancora tantissimo è un pio grazie hai visto gente hai visto gente Morto GG dopo questo video lo carico veramente dovi guardarlo cosa ho fatto ho fatto tipo 3 kg col cecco fra stai un po' lagando perché ti sento un po' malice si ma fra c'è anche la missione di ucciderli con le granate alcuni tizi è presente quindi dammi 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 fra dammi prendi i medici il sole ok grande ah c'è un po' lucini tutta la vita oh fra mi fullo anche io scendini bevitene uno e l'altro dammi da me e gli altri è vero che qua c'è ancora dentro una cesta lascialo valutare fra bene perché non deve mangiare fra arriva un tipo fra ma io le ho mollate giù è vero le granate Chris Morris fra lo vado a prendere al posto del cecco perché ho mollato giù le granate come un pollo qua così spando le granate tramite la mia lanciuna oh yeah sì è perché sovraccarico dietro però è normale rip Dario rip Dario se guarderà sto video saprà di che cosa stiamo parlando perché io mi ha fatto troppi 200 in testa ok Dario dirà è certo quindi fra io c'è uno della molla e certo fra la sifo non è neanche lontana io sto ancora un po' lutando rip non credo fra io Fra ho preso un danno Fischia Non ci credo Perché ho saltato col peperoncino Guarda un attimo Fra ma io devo pescare sopra una barca Pesca fra sopra una barca Fra qua c'è una barca C'è una pozza vieni fra Devi pescare sopra sta barca fra Vieni qua sopra e pesca in sta canna fra Vieni e pesca qua nella pozza fra Grande è fatta la mission Crismorris C'è Galactus Buongiorno Galà E' come se ci arrivassero Franne chi a me non mi ha dato neanche Aia Atterra Helicottero nel Manger Aspetta fra prima di fartelo che magari troviamo splash Lancio Scendone Arscendone Scendone Squendone ì ì ì vedi anche spreca ì colpicicolo 27 ì ì ì 27 7 ì 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 Sì ì ì ma è Fran Fran sento che non lo notava ah forse è di te la sai ma è spammatzi oh spammat bravo bravo spammat 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 ma cadi guarda muori ma muori male ma porca la miseria bravo io adesso ti resto corri subito in safe è vero fra vai 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 fra elidec subito eh Fran non devi essere mai fermo dovremmo andare a pantano quando ci fulgiamo fra io ho medikit ho medikit e infatti dovremmo definirli uno o è un team ma fra dicevo un loot pazzesco mi sembra un bot fra solo che non ha niente che c'ha sparato guarda come spara eh lo so fra è quello che ti ho detto fra ma che cavolo c'è ma aspetta un attimo fra lancia razzi fra prenderlo a posto del circo legend che ho io fra è caduto pure nè dopo si vai 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 aspettate un attimo che prendo ste granate come fra prenditelo prenditelo fra e builda bene faccia qua lo sillone Fracciono Legend Che partita Me la lanci qui di fianco No Rick Vabbè faccio io Tranquilo tranquilo Vabbè Dov'è Sì fra Ce lo facciamo Tanto abbiamo Anche la safe Che dovrebbe Venire verso di noi Quindi Anche se Non so Grande fra Li prendo io Perché mi servono Sì le ho presi Le ho presi Tranquilo E' per quello che le prendo Fra io sono full Di legna Fra cosa è? Vediamo Cecco Fra Hai visto che l'avevo Lasciato un Cecco Legend Grande 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 Io ce l'ho già Fra vai in safe Vieni mi safe Vieni mi safe Fra adesso ci dobbiamo concentrati In in game Siamo in safe In una safe Così Fra Pingo le airdrop Così se lo prendono Sappiamo Che c'è lì Fra se tu spari Fra verso di lì Prova Fra io sono nero Nei cespugli Mi dissocio Fra siamo viola Quindi non so Quanto convenga Ma si è vero Ho pingato Eh l'ho pingato Anche io Vabbè No Fra è il mio Dipingo Si ma lo apriranno Fra è morto uno Eh Si è vero Morto uno Rai Aspetta Lo sei fallino Giusto No È lì allora Si Fra lo vedi Fra Fra 32 Attento che l'altro C'è C'è Fra Chris Morris Fra devi proteggere Qua il tipo Porca la miseria Gigi Io scappo Dalla zi Dov'è Fra 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 io sono di fianco Qua la sifo E' qua davanti Fra sto recando Ok Ok grande Ripto Caldo Grazie a tutti Grazie a tutti Questa Dai Grazie a tutti Un'amore Questa I Questa 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 c'è pure una cesta c'è pure adesso vedete che ho trovato lo spazio di dentro c'è solo il piede fuori guarda ora si ma questo non era bianco guarda 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 Grazie a tutti.